La Lega guardi verso il futuro, guardi verso l'Europa, quindi punti su Matteo Salvini, in quanto è l'uomo giusto per traghettare la Lega nel futuro, una battaglia identitaria del futuro, legata anche alle forze anti-europeiste in Europa. La scheda dovrebbe essere il senso di una forza, no, non annulliamo la scheda. Sensazioni prima di entrare, cosa ci si aspetta? Massima tranquillità, elezioni, sono una forma democratica, noi siamo superdemocrati, si deciderà per sicuramente. Ciao! Dopo il voto, come si sente? Dopo il voto ci si sente bene, abbiamo fatto il nostro dovere e penso che sia il momento di dare veramente una svolta, di dare un cambiamento significativo. Coordinatore provinciale dei giovani padani di Varese, vogliamo partitele domani? No, te, te padani, voglio dire un po' di rispetto. Ho fatto il militante medio della Lega, vende una telecamera e dice cos'è. Grazie. Grazie.